Quest'anno il progetto coinvolgerà circa 305 persone. Negli anni passati e due anni precedenti sono state impiegate un migliaio di persone, quindi insomma numeri importanti per la nostra società. Progetto lavoro, atto terzo. L'Assemblea dei Soci Dietra ha approvato il sostegno all'iniziativa e la Multi Utility e già al lavoro per continuare ad offrire una risposta concreta alle tante persone vittime della disoccupazione. I numeri del Veneto, pur migliori di altre realtà italiane, restano comunque impressionanti. Dal 2008, anno di inizio della crisi, in regione si sono persi 91.000 posti di lavoro, una tendenza che nonostante qualche timido segnale di ripresa continua. Noi abbiamo 150 aziende al mese che chiedono le procedure, quindi vuol dire che chiedono gli ammortizzatori sociali oppure devono licenziare. Abbiamo 23.000 persone che sono state messe nuove in cassa integrazione quest'anno. I risultati di progetto lavoro sono incoraggianti. Delle più di 1.000 persone che hanno partecipato finora, il 25%, uno su quattro, è poi rimasto inserito nel mondo del lavoro. Se da un lato le amministrazioni locali possono avere delle persone della mano d'opera che fa piccoli lavoretti, dall'altro dà anche una mano delle persone che hanno difficoltà economiche, che non hanno ammortizzatori sociali, che si trovano in una situazione di disagio. I beneficiari di progetto lavoro hanno più di 35 anni. Da ottobre godranno di un impiego retribuito per 5 mesi e parteciperanno inoltre ad attività formatrici in grado di riqualificarli per facilitare la loro stabilizzazione al termine dell'esperienza. Con i lavori di pubblica utilità non hanno un sussidio che è mortificante per un Veneto, hanno la dignità di un posto di lavoro.